Un bellissimo, una bellissima partita, un appazzantista che si arrenda, ma l'entraverso, non è lì? Eeeh, perché nessuno si vuole, ma non mi fa, si lecca in vita sua, una volta in vita sua. Oh, non li facciamo, eh? La nostra volta li facciamo prendere paura, eh? Allora, 5, 4, 3, 2, 1, scoppia! Un po' tardivo, eh? Però li riusciamo. Pum! Signori, tutti col voto a fare gis, un bel sorrisone, prendiamo la macchina, fa clic, 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 quando viene giù? Chi le vuole? E' un po' comodo. La mia è voluta posta, sicuro. Bene, e questo qui era il nostro buon venire, appunto, che ci ha presentato questo razzo. Lui, tra le altre cose, tende a giocare di questo.